In questo video andiamo a vedere quali sono le molecole che caratterizzano gli esseri viventi. Abbiamo visto che l'acqua è la sostanza presente in maggior percentuale degli esseri viventi, però a parte l'acqua, che si considera una sostanza inorganica, gli esseri viventi sono caratterizzati da molecole, da biomolecole, da sostanze organiche e vediamo che caratteristiche hanno queste sostanze organiche e le principali biomolecole presenti negli esseri viventi. La prima cosa da dire è che tutte queste sostanze organiche hanno in comune il fatto di essere formate da uno scheletro di atomi di carbonio. L'atomo di carbonio quindi è fondamentale in queste biomolecole, è presente sia sul pianeta Terra, in natura, è presente sia in forma inorganica che organica. Per esempio la grafite è il componente delle mine, delle matite ed è fatta da carbonio. Anche il diamante è fatto interamente da carbonio, chiaramente tra grafite e diamante cambiano i tipi di legami e quindi cambia poi anche le caratteristiche della sostanza che si ottiene. Questa è la struttura così semplificata dell'atomo di carbonio e questo schema mostra la flessibilità del carbonio, la sua capacità di formare reticoli, polimeri, piani e questa sua capacità di formare strutture polimeriche, cioè catene, reti, lo rende particolarmente importante e flessibile anche nel formare le molecole organiche, le biomolecole. Per essere precisi la forma A dovrebbe essere il diamante, la forma B dovrebbe essere la grafite, queste forme più o meno sferiche vengono dette fullereni e la forma H, questa in basso a destra, sono i cosiddetti nanotubi che sono strutture attualmente particolarmente importanti nelle nanotecnologie. Quindi il carbonio è l'elemento base delle biomolecole. Queste biomolecole poi si potrebbero classificare in due grandi gruppi, monomeri e polimeri. Il monomero è la singola molecola e il polimero invece sono catene di monomeri. Quindi facciamo qualche esempio per esempio di monomero, per esempio gli amminoacidi sono famosissimi, sono i monomeri con cui si formano le proteine. Il glucosio è uno zucchero, è famosissimo, molto importante ed è il monomero con cui gli esseri viventi creano l'amido, la cellulosa, il glicogeno e poi il glucosio serve anche come molecola di partenza per diverse vie metaboliche e per produrre altre sostanze. Nucleotidi, questo sarebbe l'amminoacido, vedete c'è un carbonio al centro, un gruppo NH2, qui a sinistra, un gruppo COOH, un gruppo carbossilico, poi c'è un idrogeno e poi c'è un gruppo, viene chiamato gruppo R, che è variabile a seconda del tipo di amminoacido. Esistono 20 tipi di amminoacidi. Qui a destra è sempre l'amminoacido rappresentato con sfere, ma la molecola è la stessa, quindi il carbonio al centro, gruppo amminico NH2, carbossilico CO2 a destra, idrogeno e gruppo R variabile da amminoacido a amminoacido. Questo è il glucosio, è praticamente un esagono di carboni, qua dovete immaginare che a ogni vertice c'è un atomo di carbonio, quindi ci sono 5 vertici con il carbonio, su un vertice c'è l'ossigeno e un altro carbonio è messo qui legato, diciamo, a parte. Questa è la molecola di glucosio, ed è uno zucchero e è molto importante per vari motivi. Ecco, queste sono tavolette di glucosio, quindi si trova anche in commercio, non è molto comune, però si trova. Un altro monomero fa abbastanza famoso, importante, diciamo, è il nucleotide. Nucleotide sarebbero tre gruppi collegati, un gruppo fosfato, uno zucchero e una base azotata e tutto questo gruppo chiamato nucleotide è, diciamo, l'elemento che viene ripetuto all'interno sia del DNA che dell'RNA, per cui, diciamo, è il monomero di base di DNA ed RNA. Quindi tra le biomolecole abbiamo i monomeri, quindi singole molecole, amminoacidi, glucosio, nucleotide e poi abbiamo invece i polimeri, che si ottengono, appunto, attaccando in catena i monomeri. Facciamo qualche esempio di polimero. Questo è una catena di amminoacidi, questo è ASN, GLI, FE, GLU, sono tutti i vari tipi di amminoacidi. Quindi, legati in catena, formano le cosiddette proteine. Adesso qui si mostrano le proteine a diversi livelli strutturali. Comunque, quello che ci interessa adesso sapere è che le proteine sono catene, cioè polimeri di amminoacidi. Questo, vedete, è una catena di più o meno esagoni, cioè una catena di glucosio e la catena di glucosio, poi, a seconda che sia un po' ramificata, a seconda del tipo di legami, potrebbe essere cellulosa, amido, glicogeno e anche chitina, volendo, che è una sostanza che troviamo negli insetti e nei funghi. Quindi, polimero di glucosio, qua abbiamo visto polimero di amminoacidi, polimero glucosio e polimero di nucleotidi. Eccolo qua, ogni nucleotide, quindi col gruppo fosfato, zucchero e base azotata, viene ripetuto per formare, vedete, in doppia linea, per formare, in questo caso, il DNA. Invece l'RNA è la stessa cosa, solo che è una catena singola, non è doppia. E vedremo che il DNA è molto importante per la vita, perché contiene tutte le informazioni per la vita. Un'importante categoria di biomolecole sono i carboidrati. I carboidrati sono molecole molto abbondanti sul pianeta Terra, in generale vengono anche detti zuccheri, anche se la parola zucchero in genere viene riferita a un particolare tipo di carboidrato. Hanno diverse funzioni, prevalentemente energetica, pensiamo al glucosio, che viene mobilitato per esempio all'interno degli organismi quando serve energia, oppure hanno una funzione di riserva energetica. Pensiamo all'amido contenuto nei semi delle piante, per esempio quando si macina il grano si ottiene la farina, che è fatta da amido. Pensiamo anche al glicogeno che è contenuto nel fegato delle persone, questo glicogeno diventa glucosio nel momento in cui il corpo ha bisogno di glucosio, cioè per avere energia disponibile. Oppure ha una funzione di sostegno strutturale, come ad esempio la cellulosa, che va a formare le pareti delle cellule. Questa è una sezione di probabilmente una radice di una pianta e questa linea che vedete attorno alle cellule di vari colori non è altro che la parete di cellulosa delle piante. La cellulosa è formata da glucosio, è un polimero di glucosio e questa cellulosa dà una certa rigidità alle pareti per cui poi, grazie alle quali, le varie strutture vegetali, le radici, le foglie, i rami riescono a sostenersi. Per cui in questo caso ha una funzione strutturale di sostegno. Se pensiamo all'esoscheletro degli insetti, che è fatto di chitina, possiamo ancora dire che ha una funzione strutturale. La formula generale dei carboidrati è CnH2nOn pensiamo per esempio se n vale 6 sarebbe C6H12O6 che è il glucosio e per questo si chiamano carboidrati perché sembra che per ogni carbonio corrisponda una molecola d'acqua quindi un carbonio idratato ma questa è solo una questione stechiometrica. Si suddividono in tre gruppi monosaccaridi, che sarebbero i monomeri i disaccaridi, che sarebbero i dimeri cioè due monomeri uniti tra di loro e i polisaccaridi, che sarebbero i polimeri. Allora vediamo i monosaccaridi quindi i monosaccaridi sarebbero i monomeri dei carboidrati quindi le singole molecole possono essere fatti ce ne sono diversi tipi quindi i monosaccaridi più famosi sono formati o da 5 o da 6 atomi di carbonio quindi pentosi o esosi si chiamano anche zuccheri semplici perché vengono anche utilizzati sono quelli che hanno il gusto dolce per cui si chiamano anche zuccheri tra gli zuccheri semplici e più famosi abbiamo il glucosio e il fruttosio che hanno sempre una formula C6, H12O6 per esempio questo è il glucosio ecco qua le tavolette di glucosio questo è il fruttosio che è lo zucchero caratteristico della frutta anche questo ha 6 atomi di carbonio anche se qui la molecola ha una forma pentagonale ce ne sono 1, 2, 3, 4, 5 e 6 quindi è un esoso anche il fruttosio ecco questo è il fruttosio che si presenta assomiglia molto allo zucchero e si trova anche in commercio come dolcificante in sostituzione dello zucchero che è il saccarosio questo è il galattosio che è un componente del lattosio che troviamo nel latte anche questo è un esoso 1, 2, 3, 4, 5 e 6 questo è il desossi ribosio il desossi ribosio è così importante perché è lo zucchero che troviamo nel DNA eccolo qua questo è il DNA quindi nel DNA c'è anche uno zucchero e poi andiamo ai disaccaridi questi sono i monosaccaridi vediamo i disaccaridi cioè due molecole legate tra loro anche qui ce ne sono alcune alcune molecole molto famose e probabilmente la molecola più famosa di tutti è il saccarosio il comune zucchero da cucina che non è altro un glucosio legato a un fruttosio quindi glucosio più fruttosio uguale saccarosio che è un disaccaride eccolo qua questo è il saccarosio perché in commercio si trovano vari tipi di saccarosio con diversi gradi di raffinazione in genere quello più diffuso è lo zucchero bianco il più raffinato poi ci sono vari zuccheri di canna o zuccheri grezzi un altro zucchero abbastanza famoso è il maltosio che troviamo nel malto il maltosio è molto semplice ci sono due glucosi ecco questo è lo sciroppo di malto quindi all'interno di questo sciroppo troviamo prevalentemente maltosio poi abbiamo il lattosio che è lo zucchero del latte quello che rende il latte un po' dolciastro ed è formato da un galattosio e un glucosio se bisogna capire chi è il glucosio e chi è il galattosio comunque ci sono questi due zuccheri e questo è il latte e quindi diciamo i disaccaridi alcuni disaccaridi sono particolarmente famosi e importanti altro gruppo importante e famoso sono i polisaccaridi cioè i polimeri dei monosaccaridi quindi tanti monosaccaridi attaccati tra di loro e il monosaccaride poi utilizzato per questi polisaccaridi è il glucosio ne vediamo tre che sono i più famosi abbiamo l'amido che è una catena ramificata di glucosi quindi immaginate che ogni esagono verde sia un glucosio e quindi questa catena un po' ramificata di glucosio formerebbe l'amido la farina è formata soprattutto da amido che abbiamo visto è contenuta nei chicchi di grano nel caso della farina poi abbiamo la cellulosa invece è un polimero lineare quindi non è ramificato e la cellulosa ha una funzione strutturale i legami qui sono particolarmente forti per cui anche se mangiamo fibra e cellulosa per gli esseri umani non è digeribile con la cellulosa si fanno tante cose carta, cartone cotone idrofilo col cotone si fanno i tessuti il jeans è fatto da cotone quindi il jeans è una massa di glucosio polimerizzato e la cellulosa è la componente poi del legno la componente principale del legno qui non c'è solo cellulosa la cellulosa è impregnata anche nella sostanza che la rende che la lignifica comunque anche il legno il tronco non è altro che un'enorme massa di zucchero di glucosio e un altro polimero importante è il glicogeno il glicogeno lo troviamo nel fegato ed è molto ramificato ed è praticamente la riserva di glucosio dell'essere umano quindi quando l'essere umano ha bisogno di glucosio per esempio quando fa attività fisica ecco che questo glucosio viene preso innanzitutto da questo glicogeno che si trova nel fegato per cui è nel fegato che abbiamo la nostra riserva di glucosio quando mangiamo la pasta che è formata da amido perché è fatta con la farina questo amido viene scisso in glucosio nel sangue e poi dal sangue viene ripolimerizzato nel fegato sotto forma di glicogeno come riserva di glucosio ecco questi sono diciamo quindi i tre grandi gruppi di carboidrati importanti monosaccaridi disaccaridi e polisaccaridi ok un'altra categoria importante di biomolecole sono le proteine le proteine sono polimeri formati da monomeri che si chiamano amminoacidi ed esistono 20 tipi di amminoacidi perché dobbiamo immaginare che una proteina come avevamo visto prima è una catena di amminoacidi questi amminoacidi possono essere di diverso tipo e poi questa catena di amminoacidi in qualche modo assume delle forme tridimensionali particolari per cui alla fine questa proteina la possiamo immaginare come un groviglio come una specie di filo aggrovigliato che assume una struttura tridimensionale particolare e queste sono in generale la struttura di una proteina le proteine hanno tantissime funzioni a differenza dei carboidrati che hanno prevalentemente una funzione energetica e strutturale quindi tantissime funzioni tranne in genere quella energetica per esempio funzione di sostegno e protezione meccanica funzione di protezione da agenti patogeni vedi anticorpi funzione di trasporto di sostanze vedi emoglobina funzione catalitica cioè si comportano da catalizzatori biologici enzimi cioè sostanze che facilitano reazioni chimiche funzione di movimento nel senso che favoriscono il movimento degli organi o delle varie parti diciamo dell'organismo che hanno bisogno di muoversi vediamo qualche immagine questo è l'isozima l'isozima è un enzima che abbiamo nella saliva e ha un'azione diciamo antisettica perché uccide i batteri questa è l'emoglobina che è una proteina che ha la funzione di trasportare ossigeno grazie agli atomi di ferro che contiene la cheratina ha una funzione strutturale di difesa di protezione quindi si trova sulla pelle sui peli sulle corna sulle piume sono tutte sulle unghie sono tutte strutture formate da cheratina quindi una funzione strutturale di difesa gli anticorpi hanno una forma particolare sono proteine particolari perché in qualche modo riescono a riconoscere sostanze strane e a difendersi da queste quindi una funzione di difesa questa è una visione più dettagliata di come sarebbe strutturato un anticorpo quindi si vede una specie di filamento tutto aggrovigliato l'albume dell'uovo una funzione di riserva per riserva di aminoacidi per l'embrione per il pulcino che si sviluppa all'interno dell'uovo quindi funzione di riserva questa è la catalasi è un enzima molte proteine sono enzimi e gli enzimi hanno questa funzione di favorire reazioni chimiche ogni proteina enzima ha una specifica è legata a una specifica reazione chimica per cui gli enzimi sono specifici per determinati substrati questa è l'actina l'actina è una proteina filamentosa che permette il movimento per esempio dei muscoli per cui l'actina assieme alla miosina adesso qui non è qua si vede solo l'actina comunque sono proteine che in qualche modo favoriscono il movimento ecco in questo disegno si vede un po' lo schema di come è strutturata una proteina cioè si parte dall'aminoacido in figura A figura B rappresenterebbe i 20 tipi di aminoacidi raggruppati in idrofili quello blu e azzurro e idrofobi quelli rossi poi quando si forma la catena di aminoacidi quelli idrofobi tendono a siccome in genere la proteina si trova in un ambiente acquoso ecco che quelli idrofobi vanno in qualche modo a posizionarsi nella parte più interna della proteina mentre nella parte più esterna ci saranno quelli più o meno idrofili le proteine funzionano bene a determinate condizioni ambientali soprattutto di temperatura e pH per cui quando si riscalda raffredda una proteina o quando si cambia sensibilmente il pH ecco che questa proteina si dice si può denaturare denaturare vuol dire che si vanno a rompere determinati legami si vanno a modificare determinate configurazioni tridimensionali per cui la proteina per esempio qui l'albume da mollo e trasparenti diventa bianco e poi anche se era freddo non ritorna ad essere un albume diciamo mollice trasparente ma resta così per cui è una denaturazione permanente per alcune proteine invece la denaturazione è reversibile per esempio mi pare che l'isozima si possa denaturare riscaldandolo però quando si raffredda ritorna nella sua posizione originale per cui alcune proteine diciamo si possono denaturare ma si possono anche riportare alla condizione originaria quindi proteine hanno questa struttura formata da aminoacidi hanno tantissime funzioni tra cui quelle più significative è quello che vi ho detto tranne ripeto quella energetica in genere le proteine non hanno funzione energetica un'altra categoria importante di biomolecole sono i lipidi i lipidi vengono anche detti grassi in generale però il termine lipide è più generico in genere con grasso si intende un particolare tipo di lipide per cui è meglio chiamarli più in generale lipidi i lipidi hanno diverse funzioni per esempio funzione di riserva energetica perché sono molecole che contengono molta energia il doppio rispetto ai carboidrati e anche molto più delle proteine per cui spesso hanno questa funzione di riserva energetica di isolamento se pensiamo al grasso che gli animali hanno sotto la pelle strutturale se pensiamo ai fossoli lipidi presenti nella membrana cellulare e di regolazione se pensiamo agli ormoni vediamo qualche esempio questo è un orso gli animali che vivono nei climi freddi quindi tipo l'orso ancora meglio l'orso polare più è freddo il clima più in genere gli animali tendono ad avere uno strato di grasso abbastanza spesso e questo grasso serve sia da isolante per il freddo e anche come riserva energetica durante i periodi diciamo più freddi e con meno cibo per cui duplice funzione di riserva energetica e di isolamento termico e anche meccanico perché comunque uno strato di grasso aiuta anche come barriera meccanica ecco le balene per esempio sono mammiferi cetacei sono famose per avere uno strato di grasso consistente e questo grasso veniva in passato anche utilizzato per fare olio per fare lo usavano in passato anche per olio per le lampade come lubrificante per cui le balene in genere vivono in mari molto freddi e grazie a questo spesso strato di grasso che avevano permetteva loro di vivere tranquillamente in questi ambienti freddi anche se sono animali omeotermi a sangue caldo ecco se pensiamo i fosfolipidi che sarebbero queste palline con le due codine possiamo dire che i lipidi hanno anche una funzione strutturale cioè formano le membrane cellulari che poi vedremo nel dettaglio più avanti quindi funzione strutturale e se pensiamo agli ormoni di tipo steroideo quindi non tutti gli ormoni ma una particolare categoria possiamo dire che hanno una funzione di regolazione per esempio le gonadi maschili e femminili testicoli e ovaie e l'ipofisi possono produrre ormoni steroidei che aiutano a regolare i vari apparati del corpo vediamo alcune caratteristiche e la classificazione dei lipidi come caratteristiche generali quella principale è che tutti i lipidi sono idrofobi cioè non si sciolgono in acqua tutti sanno che l'olio in acqua appunto è insolubile al massimo si può formare un'emulsione si classificano in diverse categorie abbiamo i trigliceridi che probabilmente sono i lipidi più famosi detti anche grassi e oli poi abbiamo i fosfolipidi che sono quelli delle membrane e poi abbiamo gli steroidi che formano per esempio gli ormoni ma anche il colesterolo allora trigliceridi si chiamano così perché sono formati da una molecola di glicerolo da cui gliceride e a questa molecola di glicerolo sono attaccate tre lunghe code di acidi grassi ad ogni diciamo vertice di questo zigzag c'è un atomo di carbonio questi tre gliceridi possono avere le code dritte oppure piegate per cui si suddividono in saturi quelli con le code dritte insaturi quelli con le code piegate cosa cambia come conseguenza cambia che i trigliceridi saturi cioè con le code dritte si impacchettano più facilmente per cui a temperatura ambiente tendono a essere solidi pensiamo ad esempio al burro o all'olio di palma che a temperatura ambiente è solido mentre i trigliceridi insaturi con le code piegate a temperatura ambiente tendono ad essere liquidi come per esempio gli oli e questo è anche il siccome questi si impacchettano più facilmente è anche il motivo per cui i trigliceridi saturi possono essere anche più dannosi per la salute perché tenderebbero ad accumularsi più facilmente all'interno dei vasi sanguigni creando per esempio aterosclerosi per cui nella dieta è sempre meglio preferire trigliceridi insaturi come gli oli piuttosto che quelli saturi come per esempio il burro e il lardo vediamo appunto qualche esempio questo è l'olio di oliva quindi trigliceridi insaturi salutari diciamo per la nostra dieta questo è il burro invece è un trigliceride saturo quindi si può usare ma senza esagerare perché potrebbe danneggiare la nostra salute anche il lardo è un trigliceride saturo per cui può favorire la aterosclerosi se diciamo consumato in eccesso l'olio di palma l'olio di palma assomiglia un po' al burro a temperatura ambiente e tende ad essere appunto solido perché è formato prevalentemente da trigliceridi saturi la margarina ora si usa poco in passato si usava di più è una trigliceride particolare perché è un prodotto industriale quindi sono oli che industrialmente diciamo sono stati lavorati per renderli trigliceridi saturi per cui c'è stata una lavorazione industriale per trasformare i trigliceridi in saturi in saturi per cui si ottiene questo prodotto simile al burro in passato almeno molto usato per fare dolci adesso un po' meno perché sappiamo che quelli saturi sono un po' più dannosi per la salute poi abbiamo i fosfolipidi fosfolipidi si chiamano così perché sono lipidi però hanno un gruppo fosfato e il gruppo fosfato è idrofilo per cui abbiamo detto che i lipidi in generale sono idrofobi cioè non si sciolgono in acqua però se parliamo di fosfolipidi la molecola è un po' particolare perché avendo questo gruppo fosfato hanno una testa idrofila questa pallina azzurra e le due code idrofobe questa caratteristica particolare li rende particolarmente diciamo interessanti importanti nella formazione delle membrane qui forse non si vede bene questa specie di doppio rivestimento sarebbe una membrana è un doppio strato di fosfolipidi con le teste idrofile rivolte verso l'ambiente acquoso esterno e interno invece in mezzo qui ci sarebbero tutte le code idrofobe rivolte una contro l'altra per cui questo favorisce la formazione di membrane quindi tutte le membrane cellulari sia quella dei batteri sia delle cellule vegetali animali o dei funghi tutte le membrane sono formate da un doppio strato di fosfolipidi ecco questo è un frammento di membrana cellulare in cui si vedono i fosfolipidi queste palline rosse con le due code quindi la pallina rossa rappresenterebbe la parte idrofila dove c'è il gruppo fosfato e poi le due code che sono le parti idrofobe che sono gli acidi grassi e osserviamo che una membrana non è fatta solo da fosfolipidi ma ci sono anche proteine incastrate che sono queste strutture colorate in azzurro proteine di vario tipo ci sono anche queste cose gialle che è il colesterolo e dopo vedremo che il colesterolo è un'altra categoria di lipide quindi il doppio strato di fosfolipidi forma le membrane questo è un altro disegno che illustra un doppio strato di fosfolipidi cioè un pezzo di membrana qua si vede un po' più nel dettaglio chimicamente come sono fatti si vedono le due code di acidi grassi se c'è un doppio legame la coda si piega praticamente invece se non c'è doppio legame le code stanno dritte la testa vediamo che è formata da un gruppo fosfato ma anche da un gruppo colina per essere precisi quindi chemicamente sono un pochettino più complesse comunque questa struttura qui forma un gruppo polare idrofilo dando quindi questa caratteristica di ambivalenza quindi da una parte idrofila dall'altra parte le due code idrofobe per cui formano facilmente membrane ecco dicevo l'altra categoria di lipidi quindi abbiamo visto i trigliceridi insaturi e saturi poi abbiamo visto i fosfolipidi molto utili per la formazione delle membrane e ultima categoria i lipidi steroidi o steroidei che sono principalmente ormoni per esempio il testosterone è un steroide c'è anche il colesterolo che è importante il colesterolo non è un ormone ha una funzione un po' strutturale come i fosfolipidi quindi il colesterolo lo troviamo all'interno delle membrane come abbiamo visto qua in questo disegno diciamo che in qualche modo influisce sulla fluidità della membrana e andiamo di ritrovarlo eccolo qua questo è il colesterolo il colesterolo anche lui è formato da un gruppo OH che è idrofilo un pochettino diciamo idrofilo poi tutto il resto è idrofobo per cui anche lui si dispone nelle membrane con questa testina più piccola nella zona diciamo idrofila dove ci sono le teste dei fosfolipidi e poi tutto il resto con queste strutture cicliche tutto il resto invece sta in mezzo alle code idrofobe dei fosfolipidi ecco anche in questo disegno si vede il doppio strato di fosfolipidi questo qui colorato in giallo è il colesterolo con la testina e la testina idrofila e il resto idrofobo e poi si vede anche qui le proteine incastrate per cui diciamo la membrana ha una struttura abbastanza complessa ecco questa è la sezione di un'arteria e mostra l'aterosclerosi che è una parziale occlusione di vasi sanguigni a causa di diciamo di un eccesso di colesterolo nel sangue che tende a depositarsi non c'è solo il colesterolo che si deposita si può depositare anche proteine fibre e anche altre cose però il colesterolo è una diciamo delle molecole che se presenti in eccesso più facilmente tende a depositarsi per cui il colesterolo assieme anche i trigliceridi saturi che avevamo visto prima tendono a occludere le arterie e a formare quindi aterosclerosi quindi a creare problemi di circolazione sanguigna ecco questo è un disegno che mostra un'arteria qui sopra è normale questa è in sezione qui sotto con una placca aterosclerotica una placca dove ci può essere un deposito di colesterolo e o trigliceri di saturi o e anche altre sostanze questo invece è il testosterone che è un ormone il testosterone è un così l'ormone famoso per essere l'ormone che conferisce i caratteri maschili agli esseri umani caratteri maschili che possono essere la barba la voce bassa la muscolatura sviluppata per cui tutte queste caratteristiche diciamo tipiche del maschio sono date per lo più da questo ormone testosterone un'ultima categoria di biomolecole sono gli acidi nucleici è una categoria un po' meno famosa di proteine carboidrate e lipidi però comunque importante perché appartengono a questa categoria il DNA l'RNA e l'ATP il DNA probabilmente è la molecola più famosa il DNA è un polimero di nucleotidi e la sua funzione è quella di contenere informazioni è una specie di diciamo di scala a pioli dove i pioli sono formati da coppie di basi azotate che sono l'adenina timina citosina guanina ATCG queste quattro basi azotate messe in determinata sequenza in qualche modo permette al DNA di contenere le informazioni per cui c'è un codice che permette al DNA di avere informazioni e queste informazioni servono per fare le proteine questo è il DNA contenuto in un battere dove non c'è il nucleo quindi il DNA è sparso questo è il DNA contenuto nelle cellule eucariote quindi il DNA è dentro il nucleo mentre il DNA è un doppio filamento una doppia catena di nucleotidi con i pioli formati da coppie di base azotate l'RNA invece è un singolo filamento anche l'RNA può avere diverse funzioni però quella principale quella più famosa è quella di copiare una sequenza di DNA per portare queste informazioni fuori dal nucleo e portarla diciamo alla struttura che sono i ribosomi dove avviene poi la traduzione in proteine per cui il DNA contiene informazioni per fare proteine e l'altro acido nucleico diciamo così significativo è l'ATP che significa adenosine trifosfato adenosine perché c'è l'adenina che è questa struttura qui in alto a destra zin sta per zucchero che è questo qui al centro trifosfato perché ci sono tre gruppi fosfato questi tre gruppi fosfato sono legati da legami particolari energetici per cui l'ATP diventa la molecola che trasporta energia la cede e poi può tornare a ricaricarsi è una specie di pila che si carica e si scarica all'interno della cellula e che trasporta energia laddove serve che trasporta